Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento sul compostaggio predisposto alla terza commissione. Permetterà all'ente di attingere a finanziamenti con fondi statali. Rispetto all'attesto originario la proposta è stata approvata con alcuni emendamenti migliorativi. Il provvedimento provvede tre modalità diverse di smaltimento in loco della frazione di rifiuto organico, domestica per le singole famiglie, di prossimità di comunità. Per questa pratica che il Comune oltre all'incentivazione destina anche spazi verdi urbani che però recependo un emendamento del consigliere Messina saranno preclusi alle utenze non domestiche. La pratica della compostiera prevede di depositare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali all'interno di compostiere così da produrre con cimo organico da utilizzare nei terreni. Chi deciderà di farlo otterrà in cambio uno sconto sulla Tari la cui entità sarà definita in un apposito regolamento che il Consiglio Comunale dovrà approvare. I cittadini iscritti alla Tari che presenteranno alla richiesta per il compostaggio domestico riceveranno gratuitamente una compostiera progettata per una famiglia di tre o quattro persone capaci di produrre con cime per un terreno di 800 metri quadrati. La compostiera, avendo gli stessi requisiti, potrà essere acquisita anche dai cittadini e dovrà essere posizionata ad almeno due metri e mezzo dal confine di proprietà salvo autorizzazione scritta dai vicini. La distanza sale a 12 metri in caso di compostaggio con il sistema di concimai a buca, cassa di compostaggio in legno, cumulo su terreno. L'area deve essere di proprietà e o nella disponibilità del richiedente, deve trovarsi nelle mediate vicinanze dell'abitazione o in caso contrario deve essere abitualmente frequentate per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione. Le compostiere devono essere collocate all'aperto e poggiare su un suolo naturale. Le domande devono essere presentate entro il 20 gennaio di ogni anno.